Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della ventottesima settimana del tempo ordinario. Oggi la Chiesa ci fa fare memoria di Santa Teresa Davi, la Vergine e Dottore della Chiesa. Bene, siete pronti a salire su una canoa e mettervi in un fiume? Non è il fiume dell'acqua che sta venendo giù oggi, a Pescara ne è parecchia, però ecco, il fiume della bellezza e della storia della salvezza dove noi ci inseriamo, perché la prima lettura tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, siamo al primo capitolo, ai primi dieci versetti, ecco ci fa contemplare il bellissimo disegno della salvezza che Dio ha pensato. Quindi Gesù Cristo è venuto a rivelarci questo disegno di amore, darcene pienezza e nello stesso tempo è venuto per la redenzione del mondo. Quindi questo progetto di amore del padre che nel figlio trova la redenzione per tutti gli uomini. C'è questa contemplazione di bellezza della prima lettura, andiamo a finire nel Vangelo, siamo al capitolo undicesimo di Luca, versetti 47 e 54, ci sono altre invettive di Gesù nei confronti dei dottori della legge che sono un po' contraddittori, perché loro venerano i profeti, sì, però è una venerazione ipocrita perché non hanno ascoltato e non ascoltano la voce dei profeti, addirittura sono stati anche uccisi, come sarà poi ucciso il figlio dell'uomo perché dava fastidio. C'è quindi un'arroganza, un'arroganza intellettuale, anche religiosa, di questi dottori della legge, Gesù si scaglia in maniera molto diretta. Perché? Perché c'è questo progetto di salvezza che è stato ideato da Dio e Gesù ne porta a conoscenza ogni uomo, perché dobbiamo essere attenti a rifiutare, perché può capitare anche a noi, essere attenti nel non rifiutare quelli che sono gli inviti di Dio. Ecco perché oggi contempliamo una grande santa, Santa Teresa d'Avila, che è nata ad Avila nel 1515 ed è morta nel 1582. Famosissimi sono i suoi scritti, come il Castello Interiore, perché lei all'età di vent'anni, entrata nel Carmelo di Avila, è stata una riformatrice anche dell'ordine del ramo maschile, non soltanto quello femminile, e lei diceva in maniera molto chiara che Dio abita al centro del nostro cuore, ci possiamo arrivare per mezzo dell'orazione. Quindi l'anima la paragonava a un castello, quel castello interiore, fatto di sette di more. Quindi è bellissimo poter leggere anche il suo scritto, abbastanza intenso ma bello, proprio che aiuta la nostra anima a prendere consapevolezza di quello che è la comunione con Dio, una comunione eterna con il Signore. Quindi allora dobbiamo, nella nostra esistenza, vivere quel grande progetto di amore di Dio nel contemplare, vigilare quello che è il disegno di amore per il Signore, ma responsabili anche lo dobbiamo essere, pure nei confronti dei nostri fratelli e sorelle. Non dobbiamo vivere una vita di fede soltanto per noi stessi, ma vivere proprio nella fraternità, nella comunione e nella solidarietà. Bene, auguro a ciascuno di voi di vivere una santa giornata, proprio pensando al castello interiore di Santa Teresa Davila. Faccio un augurio speciale di buon onomastico a tutti coloro che portano questo bellissimo nome, così come anche alla mia figlioccia, e nello stesso tempo vi auguri di un buon compleanno a Cinzia. Ecco, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata.